E' la consegna della Champions League del trofeo materiale da parte di André Meyer, il numero uno della CEV. E' sempre un'emozione vedere una squadra italiana esultare, nella pallavolo soprattutto, ti dirò personalmente. Non ci si abitua mai a vedere sventolare la bandiera italiana dietro le maglie nere di questi grandissimi atleti che hanno fatto veramente un'impresa straordinaria anche in questa Final Four. E' veramente un'emozione indicibile poter raccontare, aver raccontato quello che è successo anche quest'anno perché è il momento anche di ricordare la grande vittoria di Bergamo nella Champions al femminile. Quello che hanno fatto le squadre italiane di club anche quest'anno nelle manifestazioni europee è veramente qualcosa di eccezionale. Perché dobbiamo aggiungere la vittoria in CEV di Cuneo, prossima avversaria di Trento nella finale Scudetto proprio tra sette giorni a Bologna e di Perugia nella Challenge al Cup. Tanto per ricordare quello che sono i due anni fantastici di Trento. Tutto iniziato nel 2008 con la vittoria del campionato italiano. Lo scorso anno la Champions League, il mondiale per club, la Coppa Italia, la Supercoppa e adesso nuovamente la Champions League in attesa di vedere questa bellissima sfida tra due squadre che vi racconteremo il prossimo anno in Champions League, vale a dire Trento e Cuneo. Si guarda un pochettino questa medaglia d'oro che già si era messa al collo lo scorso anno Vissotto. Vissotto, gran bella partita quest'oggi. Sì, ha giocato veramente alla grandissima anche in attacco. Vedete sul palco anche Mosna ricevere il presidente della squadra di Trento, ricevere la medaglia. Anche Rafa presente in mezzo ai suoi compagni di squadra anche se non era referto per il problema al dito che gli impedisce di giocare da circa un mese. Grandissimo risultato, ricordiamo che Zigadlo pur avendo giocato alla grandissima. Ecco qua, bellissimo, il momento di Kaczynski, capitano e migliore lo scorso anno in Champions League che alza la Coppa e la passa a tutti i suoi compagni, compreso appunto Zigadlo e Rafael visto che stavi dicendo dei due palleggiatori. Ricordiamo che oltretutto Trento ha vinto questa manifestazione dove Zigadlo come ricordato è stato premiato giustamente come miglior palleggiatore con il secondo palleggiatore senza un alzatore di riserva. Questo ha dimostrazione ancora una volta dell'estrema forza di tutto il gruppo di Trento. E qua vediamo tutti i giocatori che fanno passare la Coppa tra le varie di Ebraccia e arriva proprio il momento del festeggiamento con i Coriandoli con una Atlas Arena che si tinge di tricolore verde, bianco e rosso e i colori sociali della BetClick Trentino Volley con tutti i protagonisti, lo staff tecnico, lo staff dirigenziale di questa squadra che come detto da due anni a questa parte può essere paragonata alla Barcellona Calcio almeno sino a cinque giorni fa. Decisamente, ricordiamolo, hanno fatto un'annata straordinaria, hanno vinto tutte le manifestazioni a cui hanno partecipato dall'anno scorso e questa è veramente un'impresa eccezionale in qualsiasi sport nella pallavolo di oggi forse lo è ancora di più. E qua vediamo altre immagini in merito al festeggiamento e tanto visto che ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa stagione per Club ricordiamo anche, o meglio salutiamo e siamo vicini ai festeggiamenti anche il pubblico presente al Palatrento che ci ha seguito nel corso di questo lungo pomeriggio di sport che ha visto per merito appunto di questa formazione che sta celebrando l'ennesimo successo italiano nella pallavolo e fa bene. Questo fa decisamente bene e speriamo che sia un buon viatico anche per un'ottima stagione della nazionale italiana. Ci sono i due mondiali a settembre quello maschile, a novembre quello femminile sperando ovviamente di ritornare nelle zone in cui meritiamo appunto di stare forse più facile in campo femminile che in campo maschile però non si sa mai perché le vittorie danno la carica. Bene, direi che siamo giunti in conclusione, adesso è il momento di ridare la linea a Ettore Miraglia pronto anche per darvi gli ultimi aggiornamenti in merito alla Serie A. A te Ettore! Grazie! Grazie a Martino!